I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno arrestato a strambino un romeno di 31 anni senza fissa dimora per lesioni personali, tentata rapina e violenza sessuale. La vicenda risale giovedì sera nel comune di Romano Canavese quando una 27enne intorno alle 20.30, mentre tornava a casa dal lavoro a piedi, in un'area boschiva per accorciare il tragitto, è stata aggredita alle spalle dal romeno nel tentativo di rapinarla. La donna è caduta a terra ed è stata colpita più volte con schiaffi e pugni dell'aggressore. La vittima si è difesa con coraggio e con tutte le sue forze, ma alla fine l'uomo l'ha immobilizzata e l'ha sfilato i pantaloni per violentarla. A un certo punto il suo telefono è iniziato a squillare e il suo aggressore si è spaventato. La donna si è rivestita ed è scappata, ma prima il romeno l'ha minacciata, oltre un numero di telefono non denunciarmi. Le urla della vittima in fuga, sconvolta e sanguinante al volto, hanno attirato l'attenzione di alcuni residenti che dopo averla soccorsa hanno chiamato la centrale operativa dei carabinieri. Le immediate ricerche dell'aggressore da parte delle pattuglie hanno permesso di arrestarlo mentre camminava nel centro di Strambino. L'uomo è stato anche sanzionato per aver violato le misure di contenimento relative all'emergenza coronavirus.